ciao runners e ciao amanti della corsa io sono lorenzo maggiani e questo è il podcast da 0 a 42 non lo nascondo per quanto io sia ormai principalmente un trail runner non disdegno del tutto la corsa su strada non sono di quelli che insomma la definiscono solo bitume in particolar modo la mia distanza preferita in questo senso è la mezza maratona che poi a parte una garetta veramente local per iniziare da circa 10 chilometri è stata anche la mia prima distanza che ho posto come obiettivo all'epoca quando ho iniziato a correre con costanza certo ovviamente anche le altre distanze hanno un loro fascino e un loro perché secondo me in particolar modo la maratona è l'ultra chissà che nei prossimi tempi poi non faccio una puntata analoga proprio per queste altre gare ma la mezza maratona ha tanti pregi anche per il semplice fatto di non essere poi così tanto impegnativa per certi versi sarà appunto anche per il fatto che essendo la mia prima gara i primi tempi in cui correvo pure solo pensare di fare 21 chilometri mi sembrava un miraggio e poi però effettivamente concludere questa gara seppur con tutti i limiti dell'essere un novellino della corsa è stata una bella soddisfazione ovviamente con un tempo ad oggi decisamente rivedibile migliorabile ma ero proprio all'inizio insomma tutto era relativo e così nel tempo è rimasta comunque una distanza che mi piace particolarmente peraltro parlando così qua e là con alcuni di voi so di non essere decisamente il solo motivo per cui oggi vado a stilare un bel elenco per cui secondo me correre una mezza maratona sia veramente figo ho trovato 18 ragioni alcune più adatte a chi iniziato a correre da ben poco altre pure però per runner più esperti vedrete che ce ne sarà anche qualcuna più serie qualcuna decisamente meno ma cominciamo numero uno sono facili da trovare in giro essendo una distanza non poi così tanto lunga risulta abbastanza semplice per chi le organizza anche proprio livello di gestione di permessi e quant'altro e così è relativamente facile trovare delle mezze maratone sparse in giro per l'italia ma anche all'estero secondo è un buon compromesso tra sfida ed impegno richiesto personalmente è forse il motivo principale per cui mi piacciono molto molto le mezze per quanto sia ovviamente doveroso dire che questo aspetto cambi anche a seconda del livello di chi corre e di quali risultati ci si prefiggono perché comunque per ottenere un certo tempo è necessario lo stesso impegnarsi a fondo anche con discreti chilometraggi tuttavia la mezza maratona secondo me resta un buon compromesso tra una sfida e le ore di allenamento necessarie per raggiungere quel determinato traguardo bisogna lo stesso appunto allenarsi seriamente ma almeno durante la preparazione non si passeranno intere giornate del weekend a fare corse lunghe che siano molto molto lunghe la mezza forse non avrà proprio il fascino completo della maratona ma per preparare una 42 chilometri occorre decisamente più tempo ed impegno soprattutto per i runner alle prime armi può essere un traguardo complesso da raggiungere o comunque raggiungibile ma richiedere svariati mesi una mezza invece è completabile con soddisfazione da chiunque pure da un neofita in questo caso con pochi mesi di tempo un mese due mesi tre mesi numero 3 la tabella non è eccessivamente lunga proseguendo un po sulla stessa scia anche la lunghezza della tabella di preparazione non è lunghissima come quella di una maratona pure qua non c'è una regola fissa e quante settimane investire in allenamenti per la mezza resta una decisione soggettiva tuttavia non si tratta di mesi 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 di allenamenti un runner amatore abbastanza evoluto può ottenere ottimi risultati anche solo con 8 10 12 settimane di preparazione specifica io addirittura per questa di febbraio 2023 ce l'ho messe pure molte meno anche se non ci sono effettivamente poi arrivato proprio al 100 per cento del mio potenziale quarto per alcuni è una naturale evoluzione dei chilometraggi per i podisti che hanno iniziato a correre da non troppo la mezza rappresenta il primo passaggio a distanze più impegnative come proprio una sorta di processo naturale si inizia dalle 5 6 7 chilometri poi si arriva alla 10 e dopo un po ci si lancia in quest'ulteriore sfida personale numero 5 può essere un trampolino di lancio per la maratona detto già che appunto la mezza sia una distanza fattibile e proseguendo sul concetto di crescita per chi ambisce a correre la prima maratona della propria vita si tratta di uno step quasi imprescindibile per poter fare le cose come si deve senza esagerare terminata la mezza si avrà una consapevolezza già differente di se stessi in quanto persone in quanto runner in quanto atleti oltre a farvi provare già il gusto di una gara che resta comunque non cortissima ed impegnativa 6 meno rischio di infortuni per quanto io sia un accanito sostenitore del concetto che qualsiasi distanza sia corribile e preparabile da chiunque basta fare le cose in modo graduale con intelligenza va detto che una mezza maratona non richiede volumi e chilometraggi incredibili per essere corsa il che significa che rispetto alla maratona o all'ultra si rischierà comunque qualcosa di meno infatto a fastidi ed infortuni da sovraccarico settimo attesa meno lunga per chi vi accompagna chi corre lunghe distanze in giro per il mondo lo sa se il proprio partner non corre anche lui e vi accompagna sarà costretto ad attendervi per tutto il tempo della gara se non addirittura essere assoldato per farvi assistenza lungo il percorso con una mezza maratona questo non succede anche un runner non velocissimo non ci metterà poi così tante ore e l'attesa degli accompagnatori sarà più tollerabile così vi sentirete un po meno in colpa ottavo incitamenti più affidabili quando gli spettatori mentre state facendo la gara gridano dai che ci sei quasi e siete al ventesimo chilometro non mentono manca davvero poco 9 più tempo per fare attività dopo la gara correre una mezza maratona non richiede poi così tanto tempo e così si può fare la mezza al mattino di solito si parte alle 8 alle 9 alle 10 e poi più tardi andare a lavarsi cambiarsi con calma per poi potersi pure andare a fare una bella mangiata al ristorante e dopo ancora avere ulteriore tempo per girellare un po per la città e rilassarsi 10 tempi di recupero decenti a meno di situazioni molto particolari anche se vi siete sparati una mezza maratona a tutta dopo non sarete così stravolti così ricollegandoci anche al punto precedente dovreste riuscire a diambular nel post gara senza troppi dolori eppure il recupero nei giorni a seguire non sarà lunghissimo come in altre occasioni solitamente già dopo due tre quattro giorni dovreste ricominciare a sentirvi alla grande undicesimo meno irritazioni matematicamente parlando in una mezza maratona sia la metà esatta delle possibilità di soffrire di irritazioni cutanee capezzoli sanguinanti e compagnia rispetto ad una maratona numero 12 se non l'avete mai fatta risulterà un passaggio importante nella vostra crescita da runner come dicevo io sono partito praticamente subito con la mezza maratona come obiettivo principale quando ho iniziato a correre ma la maggior parte dei runner invece inizia dalle 5 10 chilometri giustamente direi e queste sono sì delle ottime gare per cominciare però il passaggio alla mezza maratona comporterà un vero e proprio salto di qualità nella corsa in un certo senso grazie all'aumento del chilometraggio e alla probabile aggiunta di uno o più giorni di corsa extra rispetto alle vostre preparazioni settimanali attuali 13 fa comunque figo resta comunque una bella distanza da fare da flexare in giro se proprio ci tenete la maggior parte delle persone restano ugualmente impressionate quando sentono che avete corso per oltre 21 chilometri numero 14 poca attrezzatura proprio di questo ne parlavo qualche settimana fa in privato con l'amico giuseppe del gaudio di runner's tails per i trail anche non lunghissimi è giustamente richiesta una qual certa attrezzatura anche minima e più si allungano le distanze e più c'è roba da portarsi dietro nelle ultra la lista dei materiali obbligatori è a volte sterminata cui si aggiungono tutti i vari gel e o barrette i sali minerali l'acqua eccetera eccetera per una mezza si potrebbe addirittura fare tutto affidandosi solo ai ristori al limite con 1 2 3 gel al massimo da portare con sé e si avrà già tutta la parte di reintegro necessaria numero 15 è più economica ok questo non credo sia il motivo principale per cui bisognerebbe correre una mezza maratona ma tutto fa a meno che non abbiate scelto una gara proprio dall'altra parte del mondo è plausibile che per fare una mezza maratona possiate addirittura non dormire nemmeno fuori la sera prima farlo a casa e poi spostarvi la mattina stessa o al massimo fare proprio una notte fuori nel caso di gare in altre città più lontane per il resto l'iscrizione solitamente costa decisamente meno delle maratone di tantissimi trail e anche riprendendo il discorso del materiale del cibo non occorrerà comprare praticamente nulla di nuovo a parte qualche gel se proprio ci tenete potresti investire in un paio di scarpe nuove ma niente di più sedicesimo motivo fa bene che si sia dei rookie o si sia dei runner decisamente più evoluti la mezza maratona fa bene al fisico e alle prestazioni nel caso di chi ha appena iniziato comunque non ha mai provato la distanza porterà a spingersi oltre i soliti chilometraggi sviluppando maggiormente la parte di endurance per i runner focalizzati sulle brevissime distanze consente già di imparare la pazienza e la gestione del ritmo su più chilometri inoltre allena l'organismo a bruciare meno zuccheri e più grassi rispetto alla 5 10 chilometri invece per chi è abituato a correre distanze dalla maratona in su porterà il corpo ad allenarsi soprattutto sul bio 2 max e sulla forza così da aumentare la cilindrata del motore sostanzialmente e poi migliorerà la capacità dei muscoli di bruciare grassi a queste velocità medio alte e tutte queste capacità però ce le si porterà in gran parte dietro anche quando si tornerà ad allungare con i chilometri diciassettesimo passare la linea del traguardo è sempre una bella emozione per quanto questo aspetto forse valga decisamente di più per chi non ha mai corso una mezza superare una finish line è sempre una soddisfazione e un'emozione certo per i più navigati sembrerà una cosa normale ma resta pur sempre un'altra gara portata a casa diciottesimo ed ultimo permette di scannellare invece questo punto è più rivolto a chi solitamente si concentra su gare più lunghe vale anche per me che solitamente corro o trail o al limite maratone invece la mezza consente di correre molto velocemente per 21 chilometri cosa non sostenibile in maratona a meno di non essere degli elite di non essere equip cioghe e dopo tanto tempo in cui si fanno competizioni prettamente di endurance è divertente farsi una sparata più breve dove far girare le gambe certo non si tratta di 5 10 chilometri dove questo aspetto è ancor più accentuato ma la mezza lo dicevo anche in uno dei primissimi punti è un ottimo compromesso tra impegno e sfida ed in questo caso ci permette di andare decisamente veloci senza tralasciare un po la nostra indole da amanti delle lunghe distanze e via questi erano i miei motivi per cui secondo me è figo correre una mezza maratona e se non avete mai fatto dovreste provare immagino che ce ne saranno pure degli altri nel caso scrivetemeli e commentate come sempre tutti i recapiti dove contattarmi e seguirmi li trovate nelle note dell'episodio se vi va potete aiutarmi lasciando recensione a 5 stelline condividendo questo e gli altri episodi vi ricordo anche che nelle note trovate pure i link per il merchandising per iscrivervi a 30 giorni da runner caso mai non l'abbiate ancora fatto e per supportarmi anche economicamente c'è pure patreon li si può iniziare anche da un singolo euro al mese che già lui da solo vale tantissimo direi che per oggi è tutto cari runners credo si sia capito a me la mezza maratona piace un sacco ci sentiamo alla prossima puntata